La settima e l'ottava puntata di Braccialetti Rossi 3 andranno in onda il 27 novembre e il 4 dicembre in prima serata sul Rai 1. Il gruppo di ragazzi ricoverati all'ospedale è distrutto dal dolore per la morta di Nina, tuttavia un evento così drammatico può trasformarsi in un regalo prezioso. L'ultimo desiderio di Nina infatti è quello di donare il suo cuore a Bob e così fanno i genitori della ragazza. Nella settima e nell'ultima puntata di Braccialetti Rossi 3 Bob si prepara ad un delicatissimo intervento di trapianto cardiaco affidandosi al dottor Baratti che per la prima volta dubita di se stesso. Flam ha paura di togliere le bende dopo aver subito l'operazione agli occhi, riuscirà a vedere o rimarrà per sempre nel buio. Nel promo si intuisce che la piccola tornerà a vedere. Chris che porta in grembo il figlio di Leo rischia di non farcela, per poco non annega ma dopo essere stata in bilico tra la vita e la morte riesce a salvarsi. Leo invece inizia la sua corsa contro il tempo. La malattia si sta diffondendo rapidamente e lui non può permettersi di perdere neanche un secondo. Ha bisogno di capire chi era l'uomo al cimitero vicino alla tomba di sua madre e sciogliere tutti i segreti di un passato che fino a questo momento è apparso ancora troppo confuso. Leo muore Gli sceneggiatori avevano messo in guardia i fan di Braccialetti Rossi che la terza stagione sarebbe stata ricca di colpi di scena e fin qui in effetti ne abbiamo visti parecchi. Vi ricordiamo allora l'appuntamento del 27 novembre con la settima puntata e del 4 dicembre con il finale di stagione di Braccialetti Rossi 3.